Siamo sempre con Dario e IEI e prepariamoci a qualcosa che io però non voglio più vedere Io prima sono in trattore di soppianto Tanto così si fa, ormai siamo abituati Vi salutiamo, di nuovo ciao ragazzi E il bello è che Dario è basso dal lavoro un quarto d'ora prima di conseguenza E come fa a perdersi un PG del genere? Ebbè, ma io voglio vedere anche un attimo le pose dei personaggi Perché questo è Saga E già c'è una posa che è di Saga, sinceramente Non c'è un cazzo, che è sto braccino così? Sta a far vedere il bicipite Cazzo sta flexando sto Saga Stai un po' a flexare i bicipiti, scusa Allora Ok, è come il vecchio, ti fa vedere anche le abilità Dai, passiamo direttamente al lato oscuro, metti subito camus Ma penso di essere morto, perché contro c'è di Saga Penso che sia morto Vediamo se regge Non dovrebbe reggere No, apri la skill, dai Comentiamo di le difese Potrei pure provare a congelarlo volendo Vai, 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 congelalo No, si riesca a congelare Perché non sei andato su Vizsaga? Quanto tank No, ma non ti ricordi che qua dentro Vizsaga non fa danno? No, non me lo ricordavo Ok, se mi dici così mi sento meglio Ma perché se no ho paura Quanto cazzo è toncato Ok, se Vizsaga qui non fa danno va bene Va bene tutto Non ricordo male Allora, i frostbite temo che siano gli stessi frostbite di yoga, di chi e quindi anche yoga e camusurde Dice, ah, sono frostbite Non è che possono continuare a riempire di marchi diversi Ci sono già tre barre di stati I marchi del ghiaccio sono quelli tradizionali E comunque da notare l'oppo Un uomo vero Doppio Atex in team Sì Non ha messo neanche Leo Molto fiducioso E cavo Lui sa che non verrà congelato Vabbè, oh, tanto Non è che puoi farci molto Ti avvi di giocare in qualche modo barbaro Vabbè, ma metti Leo Almeno sei sicuro che un pigillo muovi Quanto sì Bro, non c'hai energy Anche perché poi Cioè, mettendogli l'immunità a quell'Atex lì Poi coi muri di mu Purifica anche se non sbaglio Eh, adesso dopo Se sei tu l'esperto chiedi a me Eh, vabbè Sei tu che vivi di Atex Eh, te lo sto dicendo Purifica anche Quindi Diciamo che l'Atex vecchio un po' gli fa da counter Molto poco Io adesso, però Mettiamo Saga Prima Proprio il massimo dello schifo Ebbè Ma dai Ma come l'ho congelato Con la forza del pensiero Shura Ho posto tirare l'urlo Ma tra un po' tirerò quello Cioè, dovrebbe tirarmelo extra Quello extra No, doveva costare uno E cosa sta No, non c'ho nessuno congelato Eh? E congeli anche gli altri No Eh? Oh, è un danno Eh, non hai aperto il campo di Saga Che fa danno a tutti Quindi avevi ancora più chance Di congelare Che danno è? E' senza Saga Che danno è? Che cosa vuol dire? Allora Allora La parola è tua No, non farò considerazione Perché non le faccio Però Il problema è che Questo personaggio È un personaggio Che finisce di Cioè, è a Temide Basta Ah, non è Saga Fino? No, no Nel senso È come la vecchia a Temide È un problema Cioè, non capisco la disparità tra gli Atex Dovrei ricordare che dovrebbero essere pari No, di qua c'è Saga Quindi non saranno mai pari nella vita Questo è vero Di là c'è Leo poi, effettivamente Di là sono quelli scarsi Di qua sono quelli Forti Un po' più Allora Sicuramente In realtà Del De l'Atex Tradizionale Il cavaltiere loro più debole È Milo Non è neanche Leo Sì, sì Per loro però Allora Devo dire una cosa Probabilmente Ogni partita Pure il gioco si rifiuta No, purtroppo è andato Ogni partita Voi starterete con Acquario Ogni partita La prima mossa La fa sempre Acquario Bisogna capire se la rotazione è migliore Poi aprire il campo di Saga O usare Shura Esatto È quello Quello che stavo pensando Ma adesso proviamo a fare Un test subordinario Mettiamo così Tanto in mani ce l'abbiamo Quindi possiamo farlo tranquillamente È anche da capire Se adesso la purificazione Che fa No, ma ragazzi Sta cosa No, no, no Va bene Ok, siamo in Saga Non è possibile Pia troppo poco danno Sto cosa Ma vuoi dire Che quel 6% Li vale anche Da questo turno È certo Che vale anche Il primo turno Non ci ho pensato Quindi a 6% Di DR Subito Vabbè Ma a 6% Qui è true damage È che quello Il problema è che No, la DR Vale anche sul true damage Il problema è proprio quello È vero Però A me sembra Che il Saga E il Saga Non sia No, ok Il Saga Ma qua GK Non gli ha sparato Sul muso 2 palle Non gli ha fatto Un cazzo Cioè la DR Riduce anche il true damage Per quello la DR È la cosa più forte Nel gioco Però Aveva Underworld Ma infatti Ma voglio vedere pesci Ma voglio vedere pesci Quanto danno gli fa Comunque Aquario E Capricorn Sono spettacolari I modelli Cioè Sono gli stessi Riciclati Però Hanno pose Molto più carine Sì Non ci hanno lavorato molto Però Avevano già fatto Un buon lavoro Esatto Sì Hanno basi Molto più solide Saga Sulplice Usato qui È uno scempio Ah Te prego Pesci Fagli male No Il campo di Saga Comunque Ha Cioè Ha delle abilità Molto forti Eh No tanto Attiviamo Attiviamo tutto Dai Non è che È molto skill Da usare Ne ha una Ne ha di dici Ah già che poi Questo bisogna Saperlo usare Dimenticare Eh sì È molto complicato Effettivamente Sì Ok C'è qualcosa Che è Preoccupante È comunque Sacred Sì sì Per l'amor di me Per fortuna Non me frega niente Che ti lascia il camus Guarda Bella L'animazione Non c'è un cazzo Di animazione Bellissimo Ok Siamo immuni Shura Pipeiros Eh O yoga O guarda Yoga mi sta Pisi coglione Urlo Urlo Non ho visto Il 25% Su tutto il team Eccolo No Doveva farlo Già Mica Asciuga Eh ma Penso che Il problema Lì è sempre Che tu Lui non riesci A fare tutto Contemporaneamente Deve farlo Un attimo dopo Ok Credo eh Non lo so Ma di solito È così Il problema Del gioco Non sono riuscito A ripiare Mana perché Non ci ho pensato Non per colpa Dei PG Vabbè Stiamo Stiamo provando Un po' Le skill Sì sì Qui ho Un attimo Over Andato io Ma Sono un attimo Spaventato Più che altro Perché Per fortuna Gli altri PG Non curano Solo guardando È già Una cosa positiva Perché io Mi aspettavo Che pure gli altri PG Potessero congelare Un po' Come il problema Di Serafina Che Congela anche fuori Eh no Però Tanca troppo Tanca Cioè ragazzi Tanca Sto coso Eh rispetto agli altri Questo coso Tanca È stato bersagliato Da tutto No ma di che È stato bersagliato Ha preso Dal Noa D'aria Eh no Anche pesci Prima Ah vabbè E Camus Di nuovo Eh sì Ma Lo potremmo Anche No vabbè Adesso L'urlo Quando lo dovrebbe Fare No a questa Alla prossima Non è questa Vediamo Tanto comunque Poi se come Oh ma mi ha fatto doppio No alla prossima Vabbè ma tanto Tanto l'oppo che fa Cioè Non può non congelare No vabbè Eh può Uccidertelo comunque Adesso Eh non so se ce la fa Perché Adesso a venti star Ma io un dubbio Eh ma no Perché tanto comunque Muore Atena E il fiucco lo cura Allora Il life still Lo guadagna 44% Per te 44% Di resistance Su ogni cosa Quindi questa cosa è fotta Eh no Aspetta Cioè No aspetta È scritta male la skill Aspetta 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 Eh Me la puoi vedere un attimo In inglese Per favore Guarda Perché io ho un dubbio Abbastanza Grosso Su quel 6% Di DR Perché mi sa Che è scritto male È ganata passiva Eh credo di sì Ma questo è stato Bacco Bellissimo Nella seconda Nella terza Nella quarta Io lo dico Ma spero Non sia così Credo che sia scritto male È quel 6% Di DR È a personaggio Non è 6% È 6% Per personaggio Ma non avrebbe senso Eh ma Perché Cioè Più che altro perché Ce l'ha soltanto Quando sono tutti vivi Appunto Perché da Ah vabbè è vero però Sì effettivamente Hai ragione Ah ecco la frattura di saga Esce dallo schermo Cioè che non lo trovo Ah è È osceno È osceno quanto tanto Il resto si sapeva È sacred È sacred Lo vedremo poi in game Voi lo vedrete in game Io non lo vedrò mai A parte il video showcase Che farò sull'accanto Scusami ma è 20% Ah qua è 6% Se nessun alleato è controllato Riceve una riduzione Del 6% di danni Allora scala pure quella E non c'è scritto che scala Eh mi sa di sì Qui non c'è scritto Però Vai su Vai su vai su vai su È l'ultima cosa Che dice nella skill Sì se nessuno alleato La skill a 5 Eh Skill a 5 in inglese Dice che è il 20% Ok ok Allora ok Allora sì perché Quello non era 6% Quella di R che ho visto Se è il 20% Sì sì no È realistico allora Che non prende danno E come avreste Un mandala gratis Praticamente sì Eh no è enorme enorme È una riduzione enorme Ok No 20% è tantissimo Perché riduce anche Il true damage Eh no no ok Allora che tanki così tanto È normale Questo costascia E tutti i game Questo costascia Non può morire lui Ma questo anche con Nella brilliance Vabbè in brilliance Non ne parlo nemmeno Cioè però Eh ragazzi Buona fortuna Buon divertimento Buono svago E niente Noi ci vedremo Appunto con le considerazioni Con tutti quanti E poi settimana dopo che esce Chi lo pull E me lo vuole far provare Lo facciamo Io Io non lo pullo nemmeno Eh io lo farò Io lo farò Vai vai divertiti Eh grazie a tutti quanti Addio Condoglianza Ciao Ciao